E' bella a tutti ragazzi con il vostro Mickey Osho e oggi faremo la reaction al trailer ufficiale di Evil Man 2 Vi dico che questo gioco raga sarà nel mio secondo canale per questo se quando uscirà chi lo vuole vedere si voglia iscrivervi al mio secondo canale Ok reagiamo a questo trailer giuro non ho visto niente raga c'è scritto qua Evil Man 2 official trailer andiamo Ok Che è sto qua Ok Evil Man sembra più giovane We will carry on I'll always be your son Send you to sleep Soon you'll be dreaming We will carry on I'll always be your mom Ok Sembra anche meno cattiva Perché c'è una foto bruciata Ho bruciato una foto E cosa sta succedendo Ok Ok ha chiuso la porta Che è sto qua No vabbè Ragazzi ha rapito un bambino di nuovo Che è sta roba Chi sono sti qua Ragazzi ma che cazzo sono Ma co Ragazzi sono dei galli mutanti Ma cosa Ma che schifo No raga che schifo Sto qua se la ride pure Evil Man 2 Le origini No vabbè Ragazzi Le origini Finalmente capiranno Perché sta tizia è diventata così Scusate sono Se avete sentito un rumore Sono dei messaggi che vengono da Un cellulare Quando è stato fatto Due giorni fa è stato caricato Questo trailer Ragazzi Allora facciamo delle teorie adesso Sì Sì vabbè Sì sì ok E questo abbiamo capito Allora c'è questo è canzoncino Allora Questa è la prima foto che vediamo Allora Questa qua può essere La figlia di Evil Man È una teoria raga O potranno essere noi Proprio noi Questo personaggio che deve scappare Da bus Questa volta Credo Non so se è ancora Un campo estivo La location Io la location Non l'ho ancora capita Vabbè Lo capiremo quando uscirà Ok vabbè Dopo Evil Man Sembra anche Un giovane Ovvero Vabbè Deve essere Il gioco si chiama Evil Man 2 Le origini Però sembra che Siamo di nuovo In una scuola In una specie di campo estivo Sembra Ok Questa foto Vediamo Questo può essere L'altra scuola Che vediamo Raga L'altra scuola Che vediamo Sapete che In Evil Man ci sono due scuole Vabbè Quello della lavanderia Ecco Ok Questa non so chi è Sì 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 Io non lo sapevo Io non lo sapevo O giuro raga Non lo sapevo Ok si siede La sua postazione Dopo brucia questa foto Non so perché lo brucia Che non so può essere Non so Non so Non so raga perché brucia C'è una teoria Ma c'è una teoria che raga Sister Madeline Allora Chiudi la porta Sì Questa l'abbiamo capito Vabbè Vabbè Avrò quella porta Allora Vediamo Raga perché Ha rapito Questo bambino Barra bambina Però credo che sia una bambina Il protagonista stavolta Perché l'ha rapita Non lo so Può essere che Sia anche Sì 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 Può essere raga Forse Noi Abbiamo fatto qualcosa di male Adesso ci ha rapita E Ci vuole mai più far uscire Può essere che È stata impossessata Impossessata da un demonio Questa è la mia teoria Personale E adesso Questo demonio Rapisce bambini O bambine Bu Ok Ci sono queste galline mutanti Che non so Perché Ecco queste galline Queste tre L'altra non si vede tanto Però è qua Ci sono queste tre galline mutanti Non so Forse Sister Madeline Ha fatto qualcosa Non so Una specie di pozione Qualcosa di stregoneria Si dice che Che La suora Verosister Madeline Sappia qualcosa di streghe Streghe Vabbè Quello che Vabbè Sapete cosa voglio dire Per questo Che sarebbe anche illegale Ho fatto questa pozione Ho fatto questa pozione Ho fatto questa pozione Verra queste galli O li ho O li ho lanciati Uh E credo che Raga Stavolta Non ci sarà solo la suora Che ci romperà le scatole Ma anche questi Tre galli mutanti Ci romperanno le scatole Credo Ok Vabbè Dopo viene la scritta E l'immagine Yvonan 2 Le origini Ecco qua Oh Dopo se l'avete notato C'è anche In sottofondo Raga In sottofondo dell'immagine C'è anche la bocca del gallo Se l'avete notato Yvonan 2 Le origini Ok raga Questa era la Reaction Al Trailer Ufficiale Di Yvonan 2 Io spero che questo video Vi sia piaciuto E noi ci rivediamo Alla prossima Ciao ciao